Ho scelto la maglia del San Donato Tavarnelle perché è una società ambiziosa che mi ha voluto fortemente e soprattutto è composta da persone serie che è molto importante. Mi auguro di fare bene sia a livello personale che a livello collettivo e di toglierci tante soddisfazioni insieme. Un messaggio per i tuoi prossimi e presenti tifosi? Spero di vedervi presto, Forza San Donato!